Sindaco, basterebbero tre parole, un atto dovuto. Ma io dico che più che un atto dovuto è un giusto riconoscimento che la città di Teramo deve ad Antonio Tancredi. Una persona che io ho conosciuto quando mio papà mi portava già, diciamo ancora giovane, e mi portava presso la sede della Emocrazia Cristiana, via Lecrispi, al Cile dei Gasperi. E lui ha avuto modo di incontrare e di conoscerlo, non è Antonio Tancredi, una persona che ha sempre lavorato per questa città, ha sempre interpretato la politica come attività, lavoro, presenza nei confronti del prossimo e nei confronti della propria città, del proprio territorio, perché ha lavorato anche molto per questa regione e non solo per questa città. E quindi oggi intitolare questo spazio, questo largo, è una cosa giusta, perché io non posso dimenticare quella mattina di un inverno... Febraio 2012. Abbiamo deciso di spostare, di trasferire la palla da Piazza Garibaldi, qui nella riuscita della rotonda dell'8-0, e nevicava, e anche l'impresa faceva delle difficoltà, perché diceva, ma no, la neve, insomma, possiamo, rischiamo. E io mi ricordo che l'onorevole, con la sua solita determinazione, rispetto, educazione, ma piglio fermo, disse no, facciamo questa mattina. E lui con l'ombrello, mentre nevicava, io insieme a lui, con Vinicio Ciarroni e qualche altra persona, diciamo, trasferimmo la palla all'opera di Mastro Dascio, la Piazza Garibaldi. Ma questo è solo uno dei ricordi, non posso anche dimenticare, quando lui mi chiamava e mi diceva, Sindaco, mi stai trascurando. Il che voleva dire è che io avevo un appuntamento con lui, ma lui non me lo voleva dire in maniera esplicita. E quindi diceva, sì, vero Presidente, ci vediamo. E lui veniva nella mia stanza, e sempre con molto garbo, con molta delicatezza, con profondo rispetto delle istituzioni, e mi proponeva progetti per la città. Uno su tutti i viali carino, la gamba corta, che credo che sia uno dei viali più belli, forse il più bello della nostra città, con i cosiddetti terramani, e non solo terramani illustri, e credo che, insomma, l'ultimo spazio che resta ancora, l'ultimo busto che resta ancora da mettere in quel viale, è quello, io credo, riservato all'onore di Antonio Tancredi. Quindi oggi è una giornata importante, a cinque anni la sua scomparsa, sembra ieri, mi sono già passati cinque anni, e quindi davvero con grande emozione che io oggi sono qui a rappresentare la nostra città e a tributare un giusto riconoscimento ad Antonio Tancredi.